Un'altra partita con la nostra identità, un'altra partita giocando di squadra, un'altra partita fermando un attacco come quello di Iesi a 62 punti e Iesi una squadra che quando perdeva aveva di media 78 punti, quindi credo che questo sia stato importante, meritevole, scelgo solo un dettaglio, credo che la partita di Jackson in difesa su Adams sia stata una bella fotografia da fermare, da trasmettere ai compagni, da trasmettere a tutti perché credo che l'unico tiro che ha lasciato è perché è scivolato nel primo quarto quando poi Adams che ha delle mani fantastiche è riuscito a castigarlo, credo che questa sia quando quella che non è, perché non abbiamo una prima opzione, ma quella che è la tua prima opzione è uno stopper significativo sulla tua prima azione avversaria, penso che è da sottolineare il positivo. Io credo che tutti hanno fatto molto bene, però voglio scegliere questa fotografia della difesa combattiva perché la tua presunta prima azione ferma, la prima azione dell'altro penso sia il fatto che la difesa fa parte del DNA di questa squadra. È stato qualche cosa, scusate, qualche cosa di costruito perché nessuno è nato stopper in questa squadra. Assolutamente Pornù ha fatto bene, direi, soprattutto subito nel primo quarto quando era entrato a dare il cambio a Levi e questo credo che sia molto importante per noi. Credo che tutti hanno fatto cose positive e questo lo dico come spinta, ok? Credo che Marco Rossetti possa mettere, come dice, mi ha insegnato Boscia Taglius, anche la quinta marcia. Lui per forse pensa di non avere la quinta marcia, ecco. Abbiamo bisogno che lui da martedì metta anche la quinta marcia, ma non lo fa per non desiderio o non si è rientato, perché è persona seria, è persona che si allena molto bene, però penso di non avere, invece voglio dire pubblicamente che c'è la che quindi la metta la quinta marcia. No, io credo che abbiamo avuto nel primo tempo due o tre leggerezze a rimbalzi strani, l'ultimo, prima dell'ultimo possesso Levi viene perso da Shannon, uno ferreo da giuri, uno chiedeci un rimbalzo lungo dove loro non si nasce, piccolissime cose che quasi in una partita non si vetono ma che possiamo ancora aiutare.